Il cavaliere nero insegue un impossibile sogno d'amore Riuscirà a salvare la dolce principessa rinchiusa nel castello incantato? Soltanto se la vedrà riflessa in uno specchio 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 Prenda un po' di cera, cera emulsio naturalmente Ne spruzzi un po', pochissima perché è concentrata E ora strofini Vede, con cera emulsio è come avere in casa uno specchio in più Fate anche voi la prova dello specchio Fatela subito Oggi cera emulsio in offerta speciale vi regala emulsio mobili Cera emulsio, la casa a specchio, sono prodotti Sutter Cera emulsio, la casa a specchio, sono prodotti Sutter Cera emulsio, la casa a specchio, sono prodotti Sutter Cera emulsio, la casa a specchio, sono prodotti Sutter